Tre punti per il riscatto della Triestina, tre punti per la prima vittoria di Bebby Pilon. L'unione parte bene, al quarto minuto è già gol con Bultam che riceve in mezzo al campo tra le linee e scarica al destro. La palla rimbalza davanti a Fulignati e non lascia scampo 1-0. Il Perugia reagisce e impegna subito in un paio di occasioni Offredi che però si fa trovare preparato. A 5 minuti dall'intervallo del primo tempo è ancora l'olandese a colpire, una palla di Rizzo viene spedita in angolo. Il cross battuto da Giorico trova la testa di Bultam che insacca il 2-0. Nella ripresa i toscani provano a reagire ma la Triestina ha il controllo del match su tutto il campo, almeno fino al 38esimo del secondo tempo quando Tartaglia devia nella propria porta un traversone da destra. I fantasmi di un possibile ribaltone non compromettono però il controllo del gioco della Triestina e Pilon può tirare un sospiro di sollievo. 2-1 il finale, Triestina soddisfatta e premiata da una buona prestazione a Rocco.